Il percorso maturato per quanto riguarda il progetto Bordigliera in tre anni, a seguito della vittoria del centro-destra in Regione Liguria, abbiamo trovato sempre un interlocutore attento a quello che erano le istanze e le problematiche administrative del Comune di Bordigliera, che il progetto Bordigliera pur essendo la lista del centro-destra che la volta scorsa non aveva trovato un accordo con il centro-destra ufficiale, ho trovato invece comunque sempre attiva e attenta alle collaborazioni. C'è un progetto importante che vede da circa due anni della distrazione di lavoro a Gesù, con la prima fase che è quella naturalmente della pista ciclabile di Bordigliera che partirà dal centro-destra e qui e arriverà fino al centro-destra in Regione Liguria. Il progetto va avanti e ci crediamo molto. è un candidato che ha trovato il consenso dell'intera coalizione, è un candidato già sindacusciente con cui abbiamo lavorato bene in questi anni di nostra amministrazione, con cui abbiamo costruito una serie di progetti che credo renderanno migliore questa città, abbiamo lavorato con lui sull'ospedale, quindi sui cambiamenti che lo riguarderanno ovviamente in positivo con l'aumento dei servizi per i cittadini, abbiamo lavorato a lungo per dare via quel grande cantiere che era la ristrutturazione dell'Angst, eravamo qua poco tempo fa, penso che sia un buon esempio di una Liguria che si è rimessa in moto e quindi i partiti della nostra coalizione, tutti noi abbiamo riconosciuto che fosse il candidato più consono ad andare avanti non solo per un secondo mandato che normalmente è quello che produce migliori risultati dopo la programmazione dei primi cinque, ma visto la consonanza del nostro modello di Liguria con questo modello di Bordighera, riteniamo sia la scelta più giusta. In tutta la Liguria, in tutti i comuni e Bordighera non poteva essere da meno quello di andare insieme, di andare uniti, di superare personalismi, divisioni, anche quelle che possono essere ambizioni personali di qualcuno, ma il centro-destra per dare una buona amministrazione ai cittadini deve avere la responsabilità di andare uniti, l'abbiamo fatto in regione Liguria, l'abbiamo fatto a Genova, Spezia, Taggia, Piano Marina, lo facciamo a Impera, lo dobbiamo fare a Bordighera come lo facciamo dall'altra parte della Liguria, a Sarzana. È un modello normale quello di essere insieme, di essere uniti e di collaborare nell'interesse dei Liguri e delle nostre comunità.